non c'è il grosse perte di tempo piccole perte di tempo così come quando se vado a casa stasera non è che se vedo una macchiolina piccola o vedo una macchiolina grande per me la casa è sporca in maniera diversa se c'è una macchiolina piccola la macchiolina grande per me è sporco ok non è che la dimensione della macchia mi genera una reazione diversa al mio concetto di igiene così come la camicia bianca cioè se voi qua vedete una macchiolina di sugo qui una macchiolina di sugo grande così per voi la ma la camicia è sporca se vedo una persona che perde cinque minuti o che perde un'ora e mezza dal mio punto di vista il problema non sono non è la perdita di tempo il problema è un mindset sbagliato un mindset che denota una una mancanza di una scintilla interna che tu hai un potenziale stai perdendo tempo poco tanto che sia stai andando nella direzione sbagliata